Amore e tradimento fisico sono due cose completamente slegate, cioè si può amare una persona e magari eventualmente tradirla fisicamente solo per trasgressione, non c'entra nulla con l'amore, non è che l'amore decade o viene meno, assolutamente no, anzi ti dirò di più che è proprio questo che definisce il fatto di che cos'è l'amore, perché il tradimento fisico è completamente slegato, cioè la sessualità è completamente slegata, può succedere che in un rapporto di coppia di lunga data tra le due persone finisca o comunque diminuisca molto l'attrazione per un fattore fisiologico, le neuroscienze affermano che diciamo tra 18 mesi e 3 anni mediamente l'attrazione tende ad azzerarsi quasi, per cui, ma non l'amore, perché l'amore anzi può solidificarsi, l'amore è il desiderare il bene dell'altra persona e infatti i tradimenti che avvengono con gli amanti avvengono sempre senza dare, come dire, all'amante credito, l'amante viene sempre scartata. Certo, nei casi in cui poi finisce anche l'amore, allora finisce anche la relazione. Il problema degli amanti è che si illudono che il marito lascerà la moglie, ma sono loro che si illudono, è tutto lì, quindi bisogna semplicemente rendersi conto di questo e le cose saranno più facili. Se vuoi fare l'amante, fai l'amante, ma non credere, non illuderti, non cadere nella trappola dell'illusione che lui lascerà la moglie. Ciao a tutti.